Antonio Goffredo, praticamente un infiltrato, un quadro in mezzo a tutte le fotografie. Anche perché abbiamo avuto disposizione dall'assessore alla cultura di fare una mostra monotematica e quindi che doveva solo essere rappresentata la fontana di Piazza Cavour, la fontana del Salone. So che lei si è speso molto per organizzare questo evento. Sì, c'è stato un impegno notevole, però grazie all'associazione Daunia in Italia e soprattutto il supporto che abbiamo avuto della Fotocine Grab è stato possibile realizzare questo. In quanto poi dopo l'amministrazione ha voluto che fosse solo una mostra monotematica e quindi aveva un solo dipinto che ha la fontana. C'è altri dipinti di monumenti tipici di Foggia. Però la Fotocine Grab si è attivata per poter fare tante fotografie che rappresentano Piazza Cavour e la fontana. Lei è stato tanti anni fuori Foggia. Tutti dicono fuggi da Foggia, poi alla fine... No, io dico fuggi da Foggia ma poi torna qua. Perché non si può fare a meno di ritornare a casa, però ve la dici. Grazie. 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 Grazie a tutti.